Nella calza della Befana, l'Ital Service cerca la ripartenza attraverso quei punti dal peso specifico maggiorato nella posta in palio messa dal match con il Petrarca Padova. Entrambe le squadre sono appaiate a quota 12 punti in 14 gare e collocate in una classifica pericolosa fra 13 e 14 posto, ovvero fra zona play-out e zona retrocessione diretta. I pesaresi devono dunque rialzare la testa dopo un 2022 chiuso con il KO 4-1 a Eboli che ha contrassegnato la quarta sconfitta di fila. I Veneti invece hanno concluso con un pari col Camedosson. Pesaro e Padova hanno lo stesso obiettivo, risalire la classifica e svoltare. Si gioca al Palafiera con fischio d'inizio fissato venerdì 6 gennaio alle ore 20 e 30. Al Ital Service servirà una prestazione maiuscola considerando che il valore dei Veneti è superiore a quello che dimostra la graduatoria di oggi. Servirà soprattutto l'affetto di tutto il popolo marchigiano riunito proprio al Palafiera dal 5 all'8 gennaio per le Finals Cup. Al contrario di una Ital Service di calcio a 5 che vuole cambiare passo nell'anno nuovo, l'Ital Service Loretto Basket non vuole invece spostarsi di una virgola dagli ultimi mesi del 2022. Sabato 7 gennaio alle 18 arriva Perugia, Baia Flaminia e la capolista pesarese vuole ripartire con la sua marcia immacolata da 12 vittorie su 12 partite disputate.